Con questa unità didattica inizia il modulo dedicato alla teoria dei giochi che come vedremo si può modellare come evoluzione del concetto di ricerca nello spazio degli stati la chiamiamo ricerca con avversari perché faremo ricerca in uno spazio degli stati che rappresenta un mondo però dinamico nel senso che il mondo può essere modificato anzi sarà modificato anche a seguito di azioni compiute da altri agenti intelligenti con una razionalità pari a quella della gente che stiamo implementando quindi una capacità di analisi perfettamente analoga quindi agenti razionali che tenderanno a modificare lo stato del mondo per conseguire degli obiettivi che si intende prevalentemente essere contrastanti con quelli della gente che stiamo implementando quindi ricerca con avversari sostanzialmente questo è il gioco il gioco si è scoperto insomma si è modellato sin dall'inizio come appunto un caso di ricerca in uno spazio degli stati in cui lo spazio degli stati rappresenta un mondo non statico ma dinamico che muta a seguito di azioni compiute da agenti razionali esterni a quello che stiamo implementando ovviamente quindi capite che il gioco anche per l'intelligenza artificiale in maniera abbastanza curiosa ha avuto un ruolo importante per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale almeno pari a quello che il gioco ha nello sviluppo dell'intelligenza umana fin da bambini allora sostanzialmente vedremo l'algoritmo fondamentale su cui si basa proprio la concezione di ogni strategia di conduzione di un gioco e questo algoritmo si chiama minimax poi vedremo come questo qui algoritmo chiaramente ha una complessità esponenziale come tutti gli algoritmi di ricerca e quindi non potrebbe essere applicato non può essere applicato in casi realistici ma vedremo che un paio di decenni dopo dalla presentazione dell'algoritmo subito John McCarthy ha introdotto un meccanismo di potatura dell'albero di ricerca di minimax l'alfabetta pruning che conserva comunque l'ottimalità quindi in una seconda unità didattica parleremo di questo meccanismo di potatura così come cercheremo di intravedere quelle che sono le strategie che si possono mettere in campo per andare verso un impiego più realistico di queste strategie in casi concreti e quindi vedremo anche come estendere le potenzialità dell'algoritmo minimax con alfabetta pruning nel caso in cui avremo delle risorse limitate e poi daremo in conclusione un'occhiata anche a come ma proprio veramente un giusto uno sguardo perché comunque il discorso si farà particolarmente complesso nel caso in cui nelle strategie di gioco vogliamo tener conto anche degli effetti della casualità dell'imprevedibilità e soprattutto del fatto che il gioco come vedremo può essere a informazione imperfetta nel senso che non è dato di sapere esattamente quale sia lo stato del mondo in quanto che parte delle informazioni che servirebbero per prendere delle decisioni sono ignote alla gente che gioca che stiamo implementando che dovrà prendere decisioni bene quindi partiamo abbiamo detto che quindi gioco sostanzialmente è una forma di problem solving in cui abbiamo la novità è quella che nel dominio agiscono altri agenti che muteranno lo stato del mondo secondo comunque una linea d'azione delle linee d'azione che sono dettate dalla razionalità una razionalità pari a quella della gente che stiamo pianificando che però persegue degli scopi che siano in qualche maniera contrastanti a quello della gente che stiamo implementando questa trattazione sostanzialmente deriva dai lavori di Von Neumann e Morgister Theory on Games and Economic Behavior e da quel principale articolo sono discesi varie varie approfondimenti che hanno per decenni portato all'importante sviluppo della teoria della decisione che oggi è parte integrante dell'intelligenza artificiale anche ma quello che vediamo noi oggi è proprio la teoria dei giochi che è stata utilizzata come base di ragionamento in varie applicazioni anche importanti del 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 comportamento umano come le strategie in campo economico militare politico come sappiamo appunto i giochi sostanzialmente d'altro non sono che modelli a cui ci si rifà anche per per concepire delle strategie in contesti in cui ci sono degli avversari e il caso che faremo noi in questo modulo didattico è quello in cui i giocatori sono pochi anzi prevalentemente come vedremo due anche se vedremo come estendere l'algoritmo base che prevede due giocatori al caso di tre o anche più giocatori casi in cui come vedremo nascono anche delle dei concetti nuovi come i concetti di alleanze sono questi qui insomma scenari anche abbastanza complessi c'è stata tutta un'evoluzione di questi scenari qui sono ripirogate alcune etappe fondamentali vorrei certamente ricordare i lavori di Zermeno in campo economico hanno portato proprio allo sviluppo da parte di Fondomeno dell'algoritmo Minimax il primo programma per giocare a scacchi e chiuderei questa chiudo questa richiamo di date fondamentali con il 97 quando il campione mondiale di scacchi Kasparov fu battuto dal Deep Blue e credo che quella data segni la data in cui si è iniziato a capire che l'intelligenza artificiale avrebbe surclassato l'intelligenza umana nel concepire delle strategie in contesti in cui ci sono degli avversari allora i giochi possiamo in qualche maniera classificarli in quattro categorie a secondo della della valorizzazione di due variabili fondamentali che sono la componente stocastica se c'è o non c'è o è l'informazione disponibile alla gente che concepisce le strategie che può essere o perfetta o imperfetta spieghiamoci se nel gioco sono quindi nello scenario che stiamo modellando che il gioco modella sono presenti elementi di casualità dovuti al fatto che non tutto è prevedibile di quello che può accadere è un concetto simile a quello che abbiamo visto nel caso della ricerca con azioni non deterministiche allora i giochi si dicono deterministici altrimenti si dicono stocastici laddove c'è una componente di casualità da mettere in conto e ancora più importante credo la differenza fra giochi in cui come per esempio i giochi basati su una su una scacchiera tutta l'informazione è sul tavolo oppure alcuni particolarissimi giochi di carte in cui le carte sono totalmente scoperte e quindi l'informazione che caratterizza lo stato del gioco è comune a tutti gli agenti e a tutti gli attori che stanno prendendo parte al gioco a tutti i giocatori quindi in questo caso si dice informazione perfetta nel caso invece che parte delle informazioni siano disponibili solo ad alcuni giocatori parliamo di giochi in formazione imperfetta quindi per esempio il gioco degli scacchi il gioco della dama il fila 3 sono esempi di giochi che sono deterministici e informazione perfetta perché tutto è noto e non esistono azioni non deterministiche cioè azioni il cui effetto sia legato alla casualità il monopoli è un esempio di gioco in cui l'informazione è perfetta perché è tutto sul gioco dell'oca anche è tutto sul tabellone sul tabellone di gioco ma esistono degli ambienti stocastici appunto che sono legati al lancio di dadi oppure al prelievo di carte scoperte da un mazzo la battaglia navale è un esempio di gioco in cui non esiste casualità ma l'informazione è imperfetta per ovvi motivi non sappiamo la posizione delle navi dell'avversario e quindi quando lanciamo un colpo lo lanciamo su un punto casuale e invece i giochi di carte tipicamente sono esempi di giochi più complessi di tutti quelli che hanno sia elementi di casualità che elementi di informazione imperfetta cioè sono sostanzialmente quasi tutti basati su informazione imperfetta chiaramente lo scenario più semplice è quello dei giochi deterministici a informazione perfetta ed è interessante però questa classificazione perché l'algoritmo fondamentale che è stato sviluppato per i giochi deterministici a informazione perfetta può essere considerato la base concettuale da far evolvere per poter concepire strategie anche negli altri tre casi tre tipologie di giochi quindi partiamo dal caso di scenari in cui lo spazio di stati è noto a entrambi i giocatori quindi informazione perfetta e le azioni non sono non hanno degli effetti casuali cioè nel gioco non esistono componenti dovute alla casualità se questo è lo scenario in pratica quello che abbiamo davanti è uno spazio degli stati e quello che il giocatore deve fare il giocatore che stiamo implementando deve fare è concepire una sequenza di mosse tali che lo porteranno a massimizzare quella che è la sua utilità indipendentemente cioè in considerazione di non indipendentemente in considerazione del fatto che ad ogni sua mossa corrisponderà una contromossa dell'avversario quindi schematizziamo il gioco come facciamo appunto delle ipotesi fondamentali che non esistono azioni fatte in contemporanea a ogni azione del giocatore che stiamo implementando corrisponderà quindi una contromossa e quindi chiaramente stiamo idealizzando quelli che sono gli scenari normali però stiamo nei scenari a cui il gioco poi si ispira però di fatto stiamo implementando quelle che sono le condizioni di normale gioco il gioco degli scacchi effettivamente è un gioco in cui le mosse si alterano fra i due giocatori concetti fondamentali invece da richiamare sono che effettivamente c'è una corrispondenza praticamente perfetta con il concetto di ricerca nello spazio degli stati dove gli stati sono le configurazioni del gioco c'è uno stato iniziale e supponiamo che senza perdita di generalità che lo stato iniziale sia lo stato in cui il nostro giocatore quello che dobbiamo implementare muoverà compirà la prima mossa e poi in ogni stato esiste un giocatore che dipende dallo stato che dovrà effettuare quella mossa quindi supponiamo adesso che i giochi si svolgano a mossa alternate per cui ad una mossa corrisponde una contromossa dell'avversario le azioni che si possono compiere in certo stato sono tutte le mosse che sono legali in quello stato per ciascun giocatore il risultato dell'azione è appunto il modello di transizione degli stati che deve essere noto in questo contesto il il test di terminazione sarebbe quello che avevamo già nel cerchio spazio di stati che ci dice se è uno stato uno stato goal è uno stato quindi terminale e poi abbiamo qui una funzione di utilità questa è forse la novità che è un cosiddetto payoff o reward che è un valore prevalentemente numerico che valuta lo stato terminale del gioco in funzione di quella che è l'utilità per il giocatore che stiamo implementando e quindi questo tipicamente sarà un valore numerico abbiamo qui nel nostro slide l'esempio del gioco del fila 3 in cui sostanzialmente se alle pedine del nostro giocatore corrisponde una fila per tre che può essere orizzontale o verticale o diagonale abbiamo una vittoria e quindi la possiamo associare a un reward più uno nel caso in cui sono le pedine dell'avversario che fanno questo fila 3 abbiamo una sconfitta e quindi possiamo pensare a un reward meno uno oppure nel caso in cui si conclude il gioco senza che nessuno dei due giocatori abbia conseguito il proprio obiettivo questo è anche il caso che possiamo modellare abbiamo una parità sostanzialmente e quindi tipicamente la maggior parte dei giochi che concepiamo sono giochi a somma zero in cui un ammontare di vittoria di un giocatore corrisponde esattamente al stesso ammontare di perdita per l'altro in generale però la strategia che stiamo per vedere prescinde da questo concetto funzionerà anche nel caso in cui i giochi non sono a somma zero e cioè ci sono degli stadi terminali in cui entrambi i giocatori possono vincere qualche cosa e quindi appunto non sono a somma zero dunque fatto questo dovuto parallelo andiamo a vedere in pratica come si estende il concetto di strategia e di ricerca in spazio di stati al concetto di trovare una strategia una strategia che porti a una a un certo ma una certa sicura nel senso di sicura massimizzazione del reward cioè del payoff per il giocatore che muove per primo il giocatore che muove per primo lo chiamiamo max perché tenderà a massimizzare la sua utilità il giocatore avversario lo chiamiamo min perché lui tenderà a massimizzare la sua propria utilità che si intende essere contrastante con l'utilità di max per cui tenderà a minimizzare quella che è l'utilità di max e quindi lo chiameremo min allora praticamente dobbiamo avere che le regole del gioco sono note entrambi i giocatori e quindi non esiste elemento casuale e quindi la divisione dello spazio degli stati è modellabile in questa maniera si parte dallo stato iniziale del gioco e si vede quelle che sono le azioni legali disponibili al giocatore che muove per primo in questo caso ne abbiamo tre a ciascuna di queste azioni corrisponderanno delle contromosse da parte dell'avversario e quindi le contromosse sono etichettate con B qui supponiamo che il gioco termini subito per andare a chiarire quali sono gli elementi fondamentali e quindi terminando subito dopo una sola un solo turno di gioco abbiamo che raggiungiamo degli stati terminali sempre in questo esempio che abbiamo qui sulla grafica e a questi stati terminali è associata la funzione di payoff qui vediamo un gioco che non è sembrerebbe non chiaro se sia somma 0 o no quella che vediamo rappresentato qui è in realtà la funzione di payoff per max quindi max guadagnerebbe 3 se fosse questo lo stato terminale 12 non essendo segnata la funzione di payoff per min si intende che questa sia appunto in maniera non è segnata perché scontata dalle regole del gioco supponiamo essere esattamente complementare alla 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 funzione di payoff di max e quindi in questo stato min perderebbe 3 quindi sarebbe meno 3 la sua funzione di payoff e in questo caso perderebbe 12 e così via quindi non la rappresentiamo per niente per semplicità e quindi stiamo esattamente concependo un gioco a somma 0 se non fosse a somma 0 qui dovremmo riportarle entrambe le funzioni di utilità sia per max che per min e quindi allo stato terminale non corrisponderebbe uno scalare sostanzialmente ma corrisponderebbe come funzione di utilità un vettore sarebbe vettoriale la funzione di utilità tanti saranno come vedremo i valori di funzione di utilità associati agli stati terminali max deve scegliere la mossa con il valore più alto un valore che chiameremo di minimax adesso spieghiamo perché ecco concetto importante pensando che min sceglierà sempre la mossa con il valore minimax più basso cioè andiamo per scontato che l'agente avversario sia perfettamente razionale cioè razionale tanto quanto il giocatore max quella che dobbiamo andare a delineare è una strategia ottima una strategia ottima è quella che porta a un risultato che è almeno pari a quello di qualsiasi altra strategia presupponendo appunto che si stia giocando contro un avversario infallibile come si fa a trovare questa strategia 1944 è il concetto della distribuzione dei payoff si parte dal basso si risale verso l'alto cercando di capire come si distribuisce il payoff su tutti i nodi dell'albero a partire dalle foglie dove abbiamo il payoff quello statico vediamo come si propaga il payoff verso l'alto fino a raggiungere il nodo radice dell'albero di gioco che in realtà non è un albero potrebbe essere in generale un grafo l'albero è solamente per il caso che abbiamo visto poco fa sulla slide ma funziona lo stesso anche nel caso in cui stiamo parlando di un grafo cioè che se esistono dei cicli all'interno dell'albero il grafo produce una sola radice che è lo stato iniziale del gioco e in pratica eccola qui la funzione di utilità il payoff è quella data dal gioco se siamo in uno stato terminale se non stiamo in uno stato terminale ma stiamo in uno stato in cui il giocatore max allora per valutare il payoff di quello stato si va a vedere tutte le azioni che possono essere compiute dal giocatore in quello stato e si va a calcolare il risultato qual è lo stato che ne conseguirebbe in quell'azione si va a vedere qual è il payoff di quello stato e lo si massimizza cioè si va a prendere l'azione che massimizza il payoff nel caso in cui invece il giocatore sia che corrisponde allo stato di cui vogliamo valutare il payoff sia il giocatore min l'avversario si va a vedere analogamente tutte le azioni che può compiere l'avversario in quello stato in quello stato e si va a vedere quali sono gli stati che verrebbero prodotti da quelle azioni in quello stato si va a applicare il valore minimax a quegli stati e si va a prendere l'azione che minimizza il valore di minimax perché laddove max tende a massimizzare min tende a minimizzare quindi si costruisce tutto l'albero delle mosse in depth first come vedremo fino ai nodi terminali si applica la funzione utilità ai nodi terminali e dopodiché si usano i valori che a partire dai nodi terminali si risale su fino al nodo radice quindi sostanzialmente il concetto è che l'utilità di un nodo superiore è la massima utilità dei nodi inferiori se è uno stato in cui la mossa aspetta a max sarà invece il minimo dei valori dei nodi inferiori se la mossa aspetta a min quindi quello che andiamo a operare è qualche cosa che somiglia a un'analisi tipo quella che abbiamo fatto nei grafi Andoro in cui si alternano massimizzazione e minimizzazione nel caso del giocatore che stiamo implementando il giocatore max lui dovrà sostanzialmente capire quale o concepire capire quale delle azioni che ha a disposizione conviene che compia tenendo presente che a seconda dell'azione che fa andrà in uno stato dove l'avversario tenderà a fare delle contromosse e minimizzerà farà la contromossa che lo porterà a minimizzare il valore del payoff di max quindi max sostanzialmente deve scegliere una mossa valutando tutte le possibili alternative ma max somiglia a un'odore perché appunto ne sceglie una però quando va a valutare si va a valutare lo stato relativo all'avversario min si deve concepire tutte le possibili contromosse che l'avversario ha a disposizione e valutare tutte quante quindi sembra una una scomposizione di tipo indoor infatti l'algoritmo che adesso andiamo a implementare a vedere minimax che è la base sostanzialmente per concepire qualunque strategia di gioco quindi anche nel caso dei giochi come abbiamo detto all'inizio che non sono deterministici a conoscenza perfetta sostanzialmente si tiene presente questa strategia di fondo è la strategia minimax che è concettualmente implementabile mediante due funzioni che sono ricorsive e incrociate come abbiamo visto nei grafi indoor in cui si parte andando dallo stato iniziale c'è uno stato ovviamente che è quello lo stato di partenza e l'algoritmo minimax dovrà restituire un'azione quella che max dovrà compiere in quello stato e quella azione che compierà sarà l'azione che massimizza fra tutte le azioni che può compiere in quello stato che massimizza il risultato restituito dalla funzione valore min applicato a tutti gli stati in cui le azioni che può compiere in quello stato porterebbero lo stato del gioco cioè vengono analizzate tutte le azioni che possono essere compiute in uno stato iniziale tutti gli stati in cui ciascuno di queste azioni porterà lo stato del gioco si andrà ad applicare la funzione valore min che è qui sotto e lo valore min residirà un valore per ciascuno di questi stati e si andrà a prendere l'azione che massimizerà il valore min restituito dalla funzione valore min per ciascuno di quegli stati la funzione valore min è una funzione che chiama la funzione valore max restituirà un valore di utilità innanzitutto per applicare il test di determinazione sullo stato se lo stato è uno stato terminale viene restituita l'utilità di quello stato altrimenti partendo dal caso peggiore e cioè il caso in cui il valore min sia infinito deve essere minimizzato per cui si parte dal caso in cui sia molto grande si va a vedere qual è l'azione che può essere compiuta in quello stato e si restituisce il minore fra il valore occorrente di v e il valore restituito dal valore max calcolato sullo stato prodotto da quell'azione quindi quindi sostanzialmente si va a prendere il più piccolo di tutti i valori associabili agli stati figli dello stato che è stato passato a valore min il valore max fa esattamente il contrario quindi prende lo stato che è stato passato e restituirà per quello stato un valore di utilità andando prima a vedere se è uno stato terminazione in questo caso viene restituito il valore di utilità dato dalle regole del gioco se non è uno stato di terminazione si va a partire dal caso peggiore questo deve massimizzare quindi partiamo dall'ipotesi che si perde tutto sostanzialmente questa è la funzione quella che proprio dovrebbe compiere max quindi max si mette nel caso peggiore che perde tutto quello che ha in realtà però andrà a vedere dato lo stato in cui si trova quali sono le azioni che può compiere per ciascuno di questi stati va a vedere e per ciascuno di queste azioni va a vedere in che stato andrebbe a finire il gioco e poi applica valore min per quello stato che è quella che abbiamo visto poco fa che è una funzione che a sua volta richiamerà valore max quindi sono funzioni queste due ricorsive incrociate e e quindi andrà a valore min residirà un valore chiamiamolo v1 max andrà a prendere il valore maggiore fra il valore corrente di v e questo v1 che diventerà il nuovo valore corrente e così via per tutte le azioni alla fine verrà residito questo valore v che non sarà certamente meno infinito andiamo a vedere esattamente un esempio quindi partiamo ad esempio dal caso in cui abbiamo uno stato iniziale a del gioco associamo per max che deve muovere per primo max si mette nell'ottica che perde tutto qui ci dovrebbe stare un più infinito per min ma ovviamente essendo un gioco come dicevo prima a somma 0 non lo stiamo a rappresentare abbiamo meno infinito che si mette nel caso peggiore max perde tutto vede quale azione può compiere in nello stato A e non l'ho fatto notare prima ma praticamente per come è stato implementato questo qui è una ricerca in profondità per cui noto che se compie quest'azione il giocatore max compie quest'azione modifica lo stato del gioco nello stato B e questa volta tocca min a questo punto lui toccherà min min ci avrà una funzione v che è più infinito che dovrà minimizzare min ha a disposizione una contro mossa che porterebbe lo stato del gioco in C a questo punto tocca di nuovo a max giocare che si mette nella condizione che perde tutto max ha la possibilità di compiere questa mossa che porta lo stato del gioco in uno stato finale in cui lui vince due e quindi abbiamo il payoff quello dato dalle regole del gioco e quindi a questo punto lui sa che dovendo massimizzare che non è vero che perde tutto addirittura può vincere due intanto se compie quest'azione lui sa che potrà vincere due qualora lo stato del gioco vissa arrivare nello stato C poi va a vedere se c'è un'altra mossa si c'è un'altra mossa in che porterebbe a uno stato in cui finale in cui la funzione di payoff per lui è tre siccome tre è maggiore di due lui deve massimizzare a questo punto lui sa che se si arriva lo stato C guadagnerà tre e non ha altre mosse da fare in C allora questo valore tre si propaga a B e quindi andiamo in depth con backtracking Max sta pensando che Min a questo punto saprebbe che perderebbe tre cioè che Max vincerebbe tre quindi si va a vedere se B cioè Min nello stato B avrebbe delle mosse alternative si potrebbe avere quest'altra mossa contro mossa che porterebbe lo stato del gioco in D e si va a vedere Min dovrà minimizzare cioè a questo punto il gioco tornerebbe di nuovo a Max che dovrà massimizzare quindi si mette Max nell'ipotesi che perderà tutto ma vede che se facesse questa mossa andrebbe nello stato in questo stato finale dove andrebbe a guadagnare 5 quindi sa che in questo stato almeno dovendoli massimizzare guadagnerà 5 va a vedere c'è anche un'altra mossa però questa porterebbe a un stato del gioco in cui guadagnerebbe 4 4 non è maggiore di 5 per cui lui dovrà massimizzare quindi si terrà questo 5 e a questo punto che cosa succede? che Min comunque non cambia il suo valore nello stato B perché lui tenderà a minimizzare quindi fra 3 e 5 il minore è 5 e quindi sostanzialmente manterrà il valore 3 a questo punto si risale non ci sono altre mosse nello stato B contro mosse da fare per Min si torna allo stato iniziale dove muoveva A A aveva dove muoveva Max Max in A aveva un'altra mossa a disposizione tutto procede come abbiamo appena visto per cui alla fine quasi arrivati alla fine si associerebbe ad E il valore 0 siccome Max deve massimizzare fra 3 e 0 prende 3 quindi Max sa da questo gioco lui guadagnerà 3 se facesse la mossa che lo porterebbe in B per cui l'algoritmo Minimax restituisce una sola mossa che è la mossa che deve fare il giocatore Max nello stato iniziale che è la mossa questa qui che lo porterebbe in B e lo porterebbe cioè a vincere 3 questa è la strategia di base per affrontare la ricerca con avversari questa strategia si chiama Minimax e ha delle proprietà che adesso vediamo ma prima di vederle vediamo come si potrebbe estendere questa strategia al caso di più di 2 giocatori perché l'abbiamo adesso illustrata nel caso in cui i giocatori sono 2 però essa può essere utilizzata anche nel caso in cui abbiamo più giocatori allora per semplicità passiamo solo al caso di 3 giocatori ma è chiaro che poi dopo lo stesso concetto si può utilizzare nel caso in cui i giocatori sono più di 1 se i giocatori sono più di 2 quello che dobbiamo fare è associare ai stati terminali del gioco non un semplice scalare ma un vettore di funzione di scalare quindi c'è un vettore in cui gli scarici corrispondono le funzioni di utilità per ciascun giocatore supponiamo ad esempio che i giocatori siano 3 e che ci sia un giocatore che muove per primo e poi in sequenza a turno muoveranno gli altri giocatori qui per semplicità abbiamo concepito proprio un solo turno di gioco un gioco un turno di gioco un gioco solo turno in cui muove per primo un certo giocatore poi muoverà il giocatore diciamo A poi muoverà il giocatore il primo giocatore il secondo giocatore poi il terzo giocatore non muoverà perché il gioco è finito andiamo a vedere quale sarà direttamente la sua la funzione di utilità di quello stato terminale abbiamo che appunto agli stati terminali corrispondono degli vettori di funzione di utilità qui ad esempio per questo stato qui abbiamo 2 4 e 4 significa che il primo giocatore in questo stato qui guadagnerebbe 2 il secondo giocatore guadagnerebbe 4 il terzo giocatore guadagnerebbe 4 se si andasse a finire in questo stato qui il primo giocatore guadagnerebbe 6 il secondo 3 il terzo 1 e così via e in pratica però con questa con questa semplice modifica delle condizioni del gioco abbiamo che applichiamo lo stesso principio però lo scenario si fa decisamente più interessante lo stesso principio cosa significa? significa che applichiamo lo stesso algoritmo per propagare le funzioni di payoff dal basso verso l'alto fino ad arrivare allo stato iniziale dove a questo punto arrivati allo stato iniziale sarà chiara quella che sarà la mossa del primo giocatore e sarà chiara anche quella che sarà la mossa del secondo giocatore e così via cioè in pratica cosa succede succede che in questo in questo caso qui vabbè il terzo giocatore non può non può fare niente praticamente non gioca perché il gioco è già terminato quando toccherà a lui giocare però già si capisce qual è la regola la regola è che il secondo giocatore avendo a disposizione due mosse per esempio nel primo stato che è lo stato A il giocatore 2 ha a disposizione due mosse quale mossa compirà compirà la mossa che massimizerà la sua funzione di utilità e quindi il giocatore fra queste due mosse essendo che nella prima mossa guadagna 4 e nella seconda mossa guadagna 3 tenderà a fare la prima mossa quella in cui guadagna 4 e quindi propagherà verso l'alto il valore 2 4 4 nello stato successivo per quanto riguarda invece dallo stato B avendo nella prima mossa il guadagna 2 e nella seconda mossa il guadagna 5 tenderà a compilare la seconda mossa e quindi si propagherà nello stato B il valore il vettore 3,5,2 3,5,2 e non il vettore 5,2,2 nello stato D il secondo giocatore propagherà verso l'alto come stesso concetto il vettore 4,5,1 a questo punto tocca scegliere al giocatore iniziale quello che muove per primo che sceglierà il vettore 4,5,1 perché lui deve massimizzare la sua utilità che nel caso della terza mossa è 4 nel caso della seconda mossa è 3 nel caso della prima mossa è 2 quindi compierà la mossa quindi noi sappiamo che il gioco si svilupperà così a questo punto che il primo giocatore compierà la terza mossa quindi si andrà nello stato D e nello stato D a questo punto il secondo giocatore compierà la prima mossa a disposizione quindi questo sarà lo stato terminale del gioco e sappiamo già che il primo giocatore guadagnerà 4 il secondo giocatore sarà quello che ci guadagna di più perché guadagnerà 5 e invece il terzo giocatore guadagnerà solo 1 ecco questa è la strategia minimax e stessa più giocatori però già si vede che questo è il caso in cui abbiamo giochi non a somma 0 perché come vedete qui guadagnano tutti quanti i giocatori sostanzialmente tutti e tre i giocatori quindi un gioco non a somma 0 il concetto sarebbe stato esattamente lo stesso nel caso in cui la sommatoria degli scalari di ciascun vettore avessere sedito 0 e quindi ci saranno stati degli scalari negativi e però vediamo che nel caso in cui i giochi sono a somma non 0 quella che riflettendoci un po' si capisce che in pratica la situazione che si va a creare è una situazione in cui ci potrebbe addirittura essere una collaborazione implicita fra gli agenti per andare verso uno stato in cui quello che si massimizza è il guadagno globale ma su questo impianto concettuale si possono concepire delle strategie anche molto complesse in cui si possono andare a costituire delle alleanze magari temporane nello sviluppo del gioco e quindi è la prima volta in cui vediamo degli scenari di complessificazione del concetto di gioco a partire dalla strategia minimax in cui essendo tutta l'informazione perfetta e quindi disponibile a tutti i giocatori si potrebbero creare delle alleanze in cui dei due giocatori potrebbero magari temporaneamente allearsi per evitare che il gioco vada a finire verso uno stato in cui un terzo giocatore potesse guadagnare troppo mettendo quindi a rischio il guadagno degli altri due e quindi adesso esce fuori dagli scopi di questa unità didattica però si intravede qui che abbiamo gettato le basi per concepire anche delle strategie di collaborazione di alleanze fra più giocatori ora terminando però questa unità didattica che è stata dedicata alla presentazione dell'algoritmo minimax andiamo a vedere quelle che sono le sue proprietà e anche quelle che è la sua criticità la proprietà innanzitutto il minimax è completo è ottimale se il giocatore opponente min è perfettamente razionale se non fosse perfettamente razionale il giocatore è opponente max da quella strategia guadagnerebbe di più ma c'è da dire che se max sapesse che il proprio opponente non è perfettamente razionale e conoscesse il suo deficit di razionalità potrebbe concepire un'altra alternativa come potete anche vedere tornando indietro negli esempi che abbiamo visto si potrebbe concepire si potrebbe trovare altri percorsi che potrebbero portare ad avere un'utilità ancora maggiore per max solo però nell'ipotesi che max sapesse con certezza che il proprio opponente ha un deficit di razionalità e potesse prevedere che farebbe una contromossa non la migliore non la più razionale perché se max presupponesse che il proprio opponente non è perfettamente razionale e giocasse su queste ipotesi e invece si sbagliasse nel senso che il proprio opponente è perfettamente razionale a questo punto in corrispondenza di quella mossa max verrebbe a perdere quindi ricapitolando la strategia è ottimale nel senso che produce per max il miglior risultato possibile supponendo che il proprio opponente è perfettamente razionale se il proprio opponente poi di fatto non fosse perfettamente razionale max non potrebbe che guadagnarci se max scommettesse sull'irrazionalità del proprio opponente quindi concepisce un'altra azione che si basasse sull'ipotesi che il proprio opponente è irrazionale e il proprio opponente non lo fosse max verrebbe a perdere per cui max conviene che se non vuole rischiare che faccia l'ipotesi che il proprio opponente sia perfettamente razionale e con minimax vada a seguire la strategia che gli garantisce in questa ipotesi di avere il massimo risultato perché se poi il proprio opponente non fosse razionale non potrebbe guadagnare ancora di più questo è il concetto che è importante da capire per quanto riguarda la complessità spaziale non abbiamo grossi problemi perché la ricerca di minimax è una ricerca in profondità e quindi abbiamo un'occupazione lineare della memoria quella che ovviamente è impraticabile praticamente per tutti i giochi a parte forse fila 3 è la complessità temporale perché abbiamo la classica complessità esponenziale di tutti gli algoritmi di ricerca tanto per capirci se per esempio volessimo pensare di utilizzare minimax negli scacchi abbiamo che siccome come fece rilevare Shannon il numero delle configurazioni di possibilità di pezzi di scacchi su una scacchiera sorpassa il numero di atomi con cui è composta la via Lattea come è rassunto in questa slide praticamente avremmo che anche per voler concepire una strategia di ricerca lunga solo tre mosse tre mosse di max e tre mosse dell'avversario quindi tre turni di gioco quindi sei mosse complessive quindi un albero profondità sei dalle mosse iniziali in cui abbiamo un branch in effetto di 35 avremo che avremo più di quasi due miliardi di possibili nodi da generare e quindi con un milione di mosse al secondo analizzate dal computer comunque avremo 30 minuti per concepire la strategia ottima nell'ambito di quelle sei mosse quindi in pratica non è possibile esplorare tutto l'albero di ricerca di una partita perché tipicamente abbiamo che le mosse sono più di 40 e quindi avremo non può esistere un elaboratore in grado di concepire una strategia completa per il gioco degli scacchi ed è il motivo per cui il gioco degli scacchi è effettivamente ancora un gioco che vale la pena giocare perché almeno fra macchine oggi fra macchine uomo non credo ma fra macchine si potrebbe giocare effettivamente perché non è completamente esplorabile lo spazio degli stati l'albero di ricerca del gioco degli scacchi mentre invece è stato completamente esplorato non solo per il filadree ma anche per la dama per cui per esempio oggi non avrebbe senso giocare a dama perché se giocando a dama il giocatore che muove per primo o vince o impatta cioè l'opponente al massimo può impattare non può sicuramente vincere bene allora con questo risultato negativo che riguarda la complessità si chiude questa unità didattica la prossima sarà dedicata a presentare un meccanismo di potatura di minimax dovuta a John McCarthy nel 1956 potatura alfa beta che ha il grosso vantaggio di preservare l'ottimalità quindi una potatura significativa come vedremo arriverà anche a dimezzare a sviluppare un branching factor che è la radice sostanzialmente del branching factor medio del minimax e quindi avere anche la possibilità di poter esplorare a parità di tempo a parità di nodi espansi un albero con il doppio della profondità ma questo lo vedremo nella successiva unità didattica a parità di nodi a parità di nodi